Buongiorno, è la settimana di Pasqua e abbiamo delle notizie molto interessanti. A partire dalle 18 del vostro fuso orario di giovedì fino alla domenica con la comunione alle 12.30 orario di Jeffersonville, «Incoraggio tutti a unirsi e a chiudere fuori il mondo e portare Gesù Cristo al centro della vostra comunione e adorazione con la sposa in tutto il mondo». Ecco il fratello Joseph Branham, caro albero della sposa restaurato. Per tutto l'anno aspetto con ansia il fine settimana in cui possiamo chiudere completamente fuori il mondo. Spegnere tutti i miei dispositivi, pregare durante tutto il giorno, ascoltare la sua voce che parla al mio cuore. Avere comunione con Lui e riconsacrare completamente la mia vita al suo servizio. Ogni giorno dovrebbe essere un giorno di Pasqua per noi. Ma questo fine settimana è molto speciale, un'occasione sacra, un tempo che la sposa riserva per riunirsi e adorare. Sono così emozionato in merita, ciò amici miei. Non vedo l'ora di appartarmi con Dio in un luogo segreto, lì nello Spirito, ammirando il suo volto, unito alla sposa di Cristo in tutto il mondo. Seduto nei luoghi celesti. Lode al nome del Signore. Dovrebbe essere veramente il fine settimana più atteso e sacro della nostra vita. Oh, fermiamoci solo un altro minuto qui, nei luoghi celesti. Ora, non solo fuori da qualsiasi parte, ma nei luoghi celesti. Siamo riuniti nel celeste. Significa la posizione del credente. Che se ho pregato, voi avete pregato, o la Chiesa ha pregato, e siamo pronti per il messaggio, e ci siamo riuniti insieme come santi, chiamati fuori, battezzati con lo Spirito Santo, riempiti con le benedizioni di Dio, chiamati, eletti, posti insieme in luoghi celesti ora, siamo dal cielo, nelle nostre anime, i nostri spiriti sono stati portati in un'atmosfera celeste. Oh, fratello, eccovi, un'atmosfera celeste. Oh, cosa potrebbe accadere stasera? Cosa potrebbe accadere stasera se fossimo seduti in un'atmosfera celeste? e lo Spirito Santo si muovesse su ogni cuore che è stato rigenerato ed è diventato una nuova creatura in Cristo Gesù? Tutti i peccati sono sotto il sangue. Imperfezione, adorazione, con le nostre mani alzate a Dio e i nostri cuori elevati seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, adorando insieme nei luoghi celesti. Siete mai stati seduti in uno? Oh, io sono rimasto seduto finché ho pianto di gioia, detto Dio, non farmi mai andare via da qui, proprio in luoghi celesti in Cristo Gesù. Benediciamo, benedicendoci una concosa, guarigione divina, preconoscenze, rivelazione, visioni, potenze, lingue, interpretazione, saggezza, conoscenza, tutte le benedizioni celesti. E' gioia inesprimibile e piena di gloria. Ogni cuore riempito con lo spirito, camminando insieme, seduti insieme, in luoghi celesti. Nessun pensiero malvagio fra noi. E' nessuna sigaretta fumata, nessun vestito corto, nessuno di questo, quello o quell'altro, nessun pensiero malvagio, nessuno ha niente contro l'altro. Tutti i pali in amore, in armonia, tutti in un solo accordo, in un solo luogo. Allora all'improvviso venne dal cielo un suono come di un potente vento impetuoso. Eccovi. Egli ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Signore Gesù, ricevi la nostra adorazione verso di Te in questo fine settimana di Pasqua. Lasciaci entrare nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Lasciaci aprire un varco nel luogo santissimo. Nessun pensiero malvagio, nessuna distrazione, ma in un unico accordo, in un unico luogo. Poi, che venga dal cielo un suono come di un forte vento impetuoso in ognuna delle vostre case. Vieni, Signore Gesù. Siamo pronti a vederti faccia a faccia. Perché la sposa è stata restaurata tramite il messaggio delle luce della sera del nostro giorno, tramite il messaggio di Malachia 4. Signore, ti ringraziamo per la completa manifestazione di Cristo nella Sua Chiesa. Non una Chiesa edificata da mani, ma una completa manifestazione di Cristo dimostrato in una persona. Il tuo profeta, tramite grandi segni e prodigi, ed egli ha rivelato di nuovo l'intera parola di Dio. E ora, essa sta vivendo nella tua sposa in tutto il mondo. Grazie per averci lasciato vivere, per vedere questa grande luce della sera, secondo la profezia. E se c'è uscita, per cosa è uscita la luce della sera? A cosa serve la luce della sera? Per restaurare più. Lo afferrate? Amen. La luce della sera ha lo stesso scopo della luce del mattino. Per restaurare quello che era stato abbattuto dall'epoca oscura, tramite Roma. ma Dio restaurerà, facendo splendere la luce della sera. Cosa? Restaurerà di nuovo l'intera parola di Dio, l'intera manifestazione di Cristo nella sua chiesa. Tutto quello che egli fece, proprio esattamente, nel modo in cui lo fece, sarebbe avvenuto ancora nella luce della sera. Vedete cosa intendo? Oh, non è meraviglioso? Amen. E sapere che viviamo proprio qui nel vederlo ora, la luce della sera, esattamente in accordo alla profezia. La vera sposa non si ferma alla giustificazione, sebbene lei sappia che i suoi peccati sono come se non li avesse mai commessi. Lei non si ferma alla santificazione, sebbene lei sia stata purificata e posta da parte per il servizio. Lei non si ferma alla pentecoste, sebbene abbia ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ma lei prosegue verso la parola per il nostro giorno, Malachia 4. La parola stessa è fatta di nuovo carne in un essere umano. Il Io restaurerò, dice il Signore, che porterà la fede rapitrice per la sposa. E quella parola manifestata può venire solo tramite l'ascolto dei nastri. l'ode al suo nome meraviglioso. Uno di essi, Martin Lutero, iniziò a far splendere una luce, c'era una piccola luce di giustificazione, proprio una piccolissima forza. Si fece avanti Wesley, più forte, santificazione, e dopo Wesley venne quello più forte di lui, la pentecostale, il battesimo dell'ospito santo, un altro grande profeta, vedete? Ma negli ultimi giorni di Malachia 4, Elia deve venire con la parola stessa, la parola del Signore veniva al profeta, nelle luci della sera che devono sorgere per restaurare e portare indietro. Che cosa? Volgere i cuori dei figli di nuovo alla fede di Dio, la quarta luce. venite a riunirvi attorno alla parola nelle vostre case durante fine settimana di Pasqua. Adoriamo il Signore. Spegnete i vostri telefoni se non per fare delle foto, ascoltare la citazione e ascoltare i nastri dall'app Table, l'app Lifeline e i link per scaricare. Vorrei che ci riunissimo tutti per il seguente programma. giovedì giovedì sera è quando il Signore Gesù ha avuto l'ultima cena con i Suoi discepoli in commemorazione della Pasqua prima dell'esodo dei figli di Israele che opportunità abbiamo di avere comunione con il Signore nelle nostre crase prima del nostro sacro fine settimana e chiedergli di perdonarci per i nostri peccati e dare a tutti noi ciò per il nostro viaggio Dio esamina ora i nostri cuori c'è il sangue Signore se non c'è preghiamo che Tu lo applichi proprio ora togliendo i nostri peccati coprendoli ed essi saranno separati da noi Signore i peccati di questo mondo affinché potremmo essere santi e presentabili al nostro Padre ora mentre veniamo a prendere il corpo e il sangue versato del nostro Agnese il Figlio di Dio il nostro Salvatore iniziamo alle 18 nel vostro fuso orario locale ascoltiamo la comunione 570418 a seguito del messaggio ci riuniremo nelle nostre case con le nostre famiglie e faremo la Santa Cena fra breme avremo un link per scaricare sia il nastro per il servizio di comunione altri ti sarebbero disponibili sulla Voice Radio venerdì andiamo in preghiera con le nostre famiglie alle 9 e poi di nuovo alle 12 invitando il Signore ad essere con noi e riempire le nostre case con lo Spirito Santo mentre ci consacriamo a Lui possano le nostre menti tornare a quel giorno al Calvario più di 2000 anni fa e vedere il nostro Salvatore appeso alla croce e poi impegnarci allo stesso modo e fare sempre quello che piace al Padre ora troviamo che ciò lo rifletteva perfettamente lo scultore ora aveva la parola riflessa di nuovo nel capolavoro che ha amato suo figlio Dio Emanuele pensate soltanto è una persona talmente avvinta appunto che Dio identificò se stesso là dentro in quel corpo ed egli divenne lui e Dio divennero uno io e il padre siamo uno mio padre dimora in me io faccio sempre ciò che piace al padre e se il cristiano oggi potesse avere una testimonianza simile sareste un capolavoro proprio qui a Human sulla strada se fosse una lavandaia là dietro l'attinazzo sarebbe comunque il capolavoro per Dio quando potreste dire io faccio sempre ciò che piace a Dio l'intero mondo può vedere l'opera di Gesù Cristo riflessa in voi poi alle 12.30 riuniamoci insieme nelle nostre case per ascoltare la perfezione poi uniamoci ancora una volta in preghiera alle 15 in commemorazione della crocifissione del nostro Signore sabato riuniamoci tutti ancora una volta in preghiera alle 9 e alle 12 e prepariamo i nostri cuori per le grandi cose che gli farà per noi in mezzo a noi Signore per favore Signore potrei cantare troppo potrei predicare troppo potrei acclamare troppo potrei piangere troppo ma non pregherò mai troppo oh Dio investigami e provami stavo proprio parlando po' fuoco fa in merito alle pozze profonde come riflettono le stelle metti in noi la profondità del tuo spirito Signore come disse il profeta Davide guidami presso le acque chiete con le acque increspate le acque chiete guidami la Signore lasciami essere calmo poi alle 12.30 ci riuneremo tutti insieme a ascoltare la parola la sepoltura 570420 che giorno memorabile sarà questo per la sua sposa in tutto il mondo poi riuniamoci di nuovo insieme in preghiera alle 15 domenica che giorno perfetto per ascoltare ed essere partecipi per la restaurazione dell'albero della sposa per la prima cosa alziamoci presto come faceva il fratello Branham la mattina quando il suo piccolo amico petti rosso lo svegliava alle 5 ringraziamo il Signore per aver risorto Gesù dai morti stamane alle 5 mio piccolo amico dal petto rosso è volato alla finestra e mi ha svegliato e sembrava che il cuoricino riscopiasse dicendo egli è risorto alle 9 riuniamoci ancora una volta nella nostra catena di preghiera pregando l'uno per l'altro e preparandosi ad ascoltare la voce di Dio alle 12 e 30 ci riuniremo insieme per ascoltare il nostro messaggio di Pasqua la restaurazione dell'albero della sposa 620422 dopo questo servizio riuniamoci ancora una volta in preghiera ringraziandolo per il meraviglioso fine settimana che egli ci ha dato con lui con la sua sposa in tutto il mondo per i miei fratelli e sorelle oltro oceano come l'anno scorso vorrei invitarvi a unirvi a noi per questi eventi all'ora di Jeffersonville per tutti gli orari di preghiera su questo programma e per il nastro ascoltando domenica mattina comprendo però che ascoltare i nastri di giovedì venerdì e sabato pomeriggio all'ora di Jeffersonville sarebbe molto difficile per la maggior parte di voi quindi per piacere sentitevi liberi di ascoltare quei nastri in qualsiasi momento del giorno sia più conveniente per voi vorrei ad ogni modo che ci riunissimo tutti insieme la domenica alle 12.30 ora di Jeffersonville per ascoltare insieme il nostro messaggio di Pasqua vorrei anche invitare voi e vostri figli a prendere parte dei progetti di creation il diario il questionario della Young Foundation di cui tutta la vostra famiglia può essere partecipe insieme riteniamo che vi piaceranno perché sono tutti basati sulla parola che ascolteremo questo fine settimana per il programma della settimana le informazioni sulla preparazione del servizio di comunione il materiale che servirà per i progetti di creation i questionari di Pasqua e altre informazioni fate riferimento ai link sottostanti è un tale onore per me invitare voi e la vostra famiglia a venire a unirvi alla sposa tutto il mondo per un fine settimana pieno di adorazione lode e guarigione credo che sa veramente un fine settimana che cambierà per sempre la vostra vita fratello Joseph Branham questo conclude la lettera dal fratello Joseph Branham Dio vi benedica e shalom grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti